Ben trovati da TG della mobilità, prendi via la campagna antincendi Anast per tutelare i tracciati stradali da possibili pericoli, lo slogan è la strada, non è un posa cenere, tutela il tuo viaggio, intanto anche nella capitale prosegue la campagna antincendi, oggi in città è allerta caldo con punte di temperature previste per i 37-38 gradi, tutte le strutture di Roma Capitale hanno attivato il sistema di allerta, in primo luogo la protezione civile, il Ministero della Salute ha inserito Roma tra le città da bollino arancione, in particolare per tutelare anziani, bambini e soggetti fragili per patologie da ondate di calore, per la giornata di domani è previsto il bollino rosso sul sito comune.roma.it, tutti gli approfondimenti.